Chi sono gli alleati della finanza? Chi sono coloro che predicano al soldo evidentemente della finanza internazionale? Uno è Carlo Cottarelli che oggi sulla stampa scrive, scegliereste come amministratore del vostro condominio qualcuno che vi promette un nuovo ascensore, un sistema di riscaldamento più efficiente ed una rivernicciatura degli esterni ma non vi dice quali saranno le spese totali del condominio, le rate condominali eccetera eccetera ecco la solita solfa dell'amministratore di condominio, del pubblico che deve essere parametrato al privato. Ovviamente Carlo Cottarelli si dimentica di porre e di aver posto in passato questa domanda agli ambienti finanziari perché la crisi economica che stiamo vivendo è una crisi che nasce dagli imbrogli e dal crimine finanziario. Qualcuno ha mai domandato alle banche d'affari che hanno coperto i peggiori inganni, le più grandi bastardate finanziarie commesse, compiute e perpetrate a danno dei risparmiatori? Carlo Cottarelli ha mai chiesto ai signori delle banche d'affari, delle agenzie di rating, delle società di consulenza legale che hanno vidimato tutti quegli imbrogli? Ha mai chiesto ma chi copre? Ha mai chiesto ma dove li prendete i soldi? Ha mai chiesto di rispettare le regole? Allora quello stato che Carlo Cottarelli parametra all'amministratore di condominio è lo stato che sta cercando di riparare ai danni grandissimi, immensi della finanza speculativa. Il sistema gang bank è coperto dalla retorica dei signori come Carlo Cottarelli che continua a dire che la colpa è dello stato, la colpa della crisi finanziaria che stiamo vivendo è una colpa la cui matrice nasce negli ambienti della finanza internazionale, degli speculatori, di quelle elite finanziarie che si stanno arricchendo come non mai da quando è cominciata la crisi. Quindi Carlo Cottarelli e tutta la gente come lui deve piantarla di raccontare balle agli italiani e cari imprenditori. Mentre voi vi affannate a chiedere degli sconticini sappiate che questi signori della finanza internazionale hanno degli sconti fiscali, degli agi incredibili che voi neanche vi sognate ma continuate ad andare retta, a dare retta e a inseguire gente come Carlo Cottarelli che vi racconta che il male sta nel pubblico. Lo stato non è un amministratore di condominio e voi dovete chiedere allo stato di investire e in questa fase di investire a debito perché quando in una fase di crisi si investe a debito cresce una comunità. Carlo Cottarelli deve spiegare perché non ha mai posto queste domande agli ambienti finanziari. Ambienti finanziari che guarda caso poi assoldano gente come ex ministri che dopo aver svolto funzioni importanti dentro il ministero del tesoro per esempio si ritrovano al soldissimo delle varie Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. E' ora di finirla.